Ok, rieccoci in diretta. Abbiamo risolto il problema tecnico del ritorno dell'audio che avevamo e quindi torno a ripresentare Giuseppe, che è uno psicologo e psicoterapeuta ad orientamento fenomenologico esistenziale, che già molti dei nostri lettori sul blog conoscono per diversi articoli che ha scritto per noi. L'ultimo è una riflessione sulla psicologia oncologica, che possiamo definire così, che ha avuto molto successo sul blog. Lui lavora nell'oncologia dell'ospedale di San Giuliano ed è autore del libro Quartiere Kidney, per una psicologia dell'incontro in emodialisi. E' anche il curatore del testo che oggi siamo qui a discutere, La Angustia Vital di Lopez Ibor. Per prima cosa, Giuseppe, chi era Lopez Ibor? Eh sì, mi sembra d'obbligo parlare prima dell'autore, anzi, ne approfitto innanzitutto per ringraziarti di questa occasione, visto che mi permetti di poter parlare non solo dell'autore Juan José Lopez Ibor, ma anche di una delle sue opere, diciamo, più importanti. Partiamo dall'autore, visto che è quasi sconosciuto qua in Italia, come tutti gli autori di lingua spagnola. Diciamo che è uno degli esponenti della psicopatologia fenomenologica classica. Lui è un coetaneo di Kurt Schneider, che forse il nostro pubblico conoscerà di più, che conosciamo anche grazie alla traduzione che abbiamo avuto di Bruno Caldieri in Italia. La psicopatologia clinica è il testo. Questo è un autore che nasce a Valencia nel 1906 e muore nel 1991 a Madrid. Questi sono i dati anagrafici di questo autore che ha non solo, diciamo, avuto grande rilevanza nel territorio iberico, ma in tutto il territorio a lingua spagnola. Quindi è un autore molto presente anche nel territorio sudamericano. È un autore che ha portato, possiamo dire, la psicopatologia fenomenologica nel mondo iberico. L'ha portata anche grazie a questo testo che tra poco parleremo. Lui è stato anche presidente dell'Associazione Mondiale di Psichiatria nel 1966, oltre ad essere stato, avere avuto la prima cattedra in psichiatria a Madrid nel 1960, quindi successivo a quell'uscita di questo testo. È un autore molto particolare. Ha scritto più di 290 articoli, circa 25 libri. È un personaggio che ha lavorato fino all'età di 75 anni, ha avuto 12 figli, quindi diciamo si è impegnato su tutti i fronti, non solo su quelli di tipo prettamente accademici, ma anche da un punto di vista relazionale. Ha portato avanti una clinica che ancora oggi è presente a Madrid, alla clinica Lopez Iborra, appunto. È un autore che forse come Carlieri e Ballerini è stato definito, diciamo, come quegli autori di quegli anni dell'antipsichiatria che non si sono impegnati alle aperture dei manicomi, però il suo contributo, diciamo, da un punto di vista prettamente accademico è immenso. I suoi lavori sono ancora oggi molto riconosciuti nel territorio iberi. Credo che questo è il Lopez Iborra che ritroviamo poi nel testo. Oltre alla psicopatologia fenomenologica, mi fa piacere sollevare anche un altro aspetto. Li porta anche una dimensione della psicologia che viene definita tettonica della personalità. rifacendosi un po' a quello che è Max Scheller, visto che è un autore che spesso avete incontrato in questi incontri, soprattutto su tutto il discorso che si fa sui sentimenti, sentimenti sensitivi, sentimenti vitali, i sentimenti dell'io. Ed è questo, diciamo, uno degli autori di riferimento di Lopez Iborra, oltre ad usare come riferimenti filosofici anche alcuni grandi del territorio iberico, come Unamuno, Ortega e Gasset. Poi è un appassionato dell'esistenzialismo, ha letto tantissimo su Sartre, su Merlon-Ponty, sullo stesso Heidegger, che ovviamente, diciamo, è quello che delle analitiche esistenziali ha scritto qualcosa di immenso con l'essere tempo. Diciamo che questo è il contorno, possiamo dire, questa è la cornice che caratterizza questo tipo di autore. Quindi, diciamo, un autore che ha scritto molto, anche in ambito accademico, e che rappresenta, se possiamo dire, uno dei, forse dei pilastri, no? Della psicopatologia fenomenologica del Novecento europei. E allora, perché non è mai stato pensato, secondo te, a una traduzione finché non sei arrivato tu? Come mai non è arrivato in Italia, insomma, come autore? Bellissima domanda. Noi in Italia abbiamo, diciamo, della tradizione della psicopatologia fenomenologica, soprattutto autori in lingua tedesca e francese, che poi, diciamo, quello appariva il territorio geografico in cui nasceva e si formava e si sviluppava la psicopatologia fenomenologica. Però questo ha sconfinato, è arrivato anche in Spagna, ed è stato anche uno degli autori, per esempio, nel congresso di Parigi del 50, c'è stato anche Lopez Iborro, che ha portato una sola presentazione proprio di alcune tematiche che poi tratta in Angustia Vitale. È strano il perché un autore di tale portata non sia stato mai tradotto. Però noi ci stiamo impegnando proprio a questo, a riportare molti di quegli autori che in un certo senso sono mancati, diciamo, nell'immediato allo studio della psicopatologia fenomenologica. Mi viene in mente pure lo stesso Kresmer. Solo ultimamente siamo riusciti ad avere qualche lavoro sul delirio sensitivo di riferimento, che sono opere, a mio avviso, che ancora oggi hanno una loro portata interessantissima. Per di più Lopez Iborro, secondo me, proprio in questo periodo storico, dove appunto la fenomenologia si sta rivolgendo di nuovo al corpo, alla mente incarnata, all'ecologia della mente di Fuchs, il corpo vivo che ultimamente è uscito grazie al Vanacore e alla collega. Secondo me il ritorno, in qualche modo, a concentrare l'attenzione su quello che è il corpo e per di più possiamo dire che forse quello che si riesce a fare con l'angustia vital è proprio riuscire a individuare anche nel corpo oggettivo, una dimensione che va rivalutata proprio in chiave fenomenologica. Interessante il discorso che fai, che accenna insomma alla teoria dei valori di Max Scheller, che sicuramente è molto ripresa oggi con la corporeità. Magari dopo avremo modo di farti qualche domanda al riguardo, perché proprio la settimana prossima abbiamo un incontro dedicato a questo con Maria Cecilia Esposito, sempre alle 18.15 il venerdì prossimo. Però passiamo al cuore del nostro incontro di questa sera, Peppe. Il testo, l'angustia vital di Lopez Ibor, che cos'è, cosa rappresenta, perché hai deciso di tradurlo in italiano? Perché è scapitato, quasi per caso, eh? Forse è stata un'intuizione del buon Gilberto Di Petta. Eravamo in Brasile nel 2016, alla corte di Messas, di Guilherme Messas, con Giovanni Stanghillini, ed entrambi mi fecero conoscere la nipote di Lopez Ibor, Ines, e nacque qui quasi per caso, no? L'idea di voler mettere mano a questo testo. Devo dire la verità, questo testo dal 2016 al 2019 ha accompagnato quasi tutte le mie notti, perché poi fondamentalmente è un testo... Sarà stata contenta Giorgia, tua moglie, no? Sì, l'ho lasciata un po' libera, diciamo, durante i periodi notturni. Perché poi fondamentalmente con le nostre attività di liberi professionisti, tempo per ritagliare appunto per queste cose, spesso rimane solo quello notturno. Però devo dire la verità, piano piano mi sono proprio molto appassionato a questo lavoro, un po' perché mi ha permesso di rimettere mano allo spagnolo, che è stata la mia lingua della mia età migliore, no? Di quegli anni in cui i miei viaggi estivi erano solo e prettamente in Spagna. Quindi è lì che ho potuto imparare bene lo spagnolo. Oggi lo parlo a malapena, perché diciamo non c'è quella grande confidenza con il parlato. Però lo scritto mi rimane molto, diciamo, fattibile di riuscirlo a recuperare. E dopo aver dato questo aspetto un po' più spersonale dell'incontro col testo, ritorniamo al testo stesso. Forse la domanda che mi porrei da sole è come si dà questo testo di Lopez Ibor, L'Angustia Vitale. In effetti si dà come una sorta di tentativo di sistematizzazione di tutti quei disturbi dell'area dell'umore. Quindi dalle depressioni alle psicosi manicodepressive, ai disturbi d'ansia, ai disturbi di somatizzazione e anche ad alcuni aspetti di disturbi, diciamo, indutti dai traumi, dagli eventi traumatici. In effetti questo testo si sofferma prettamente su quella che è l'angoscia. Noi abbiamo voluto lasciarla, e dico noi perché mi è stato anche, diciamo, con alcuni collochi che ho avuto con Dipetta e Costanghellini, si è preferito lasciare il termine angustia, proprio per la caratteristica, non solo per la prossimità linguistica con la nostra, con la lingua spagnola, ma perché la parola angustia rimanda a qualcosa di molto più, diciamo, duro. Mi viene in mente, per esempio, gli spazi angusti, no? Sono quegli spazi difficilmente vivibili. E l'angoscia, così come viene riportata da Lopez Ibor, rimanda proprio a questo tipo di aspetto. Noi in Italia, nel dizionario psicopatologico, possiamo dire, italiano, la parola angustia non è stata mai usata. Forse in letteratura troviamo qualcosa in Carducci, in Manzoni, quindi, diciamo, in questi autori c'è l'utilizzo di questo termine. Ora, ritornando al testo e al suo valore, diciamo, fondante, possiamo dire che, come dicevo, cerca di sistematizzare tutto il sapere dei disturbi, dell'area dell'umore. Tant'è vero che lì lo chiama circolo timopatico, ma per di più si concentra sulla, su una categoria, possiamo dire, nuova categoria, che non è stata mai, almeno io non l'ho mai ritrovata, nel discorso italiano, che è quella della timopatia ansiosa, che poi fondamentalmente è un disturbo dove l'elemento essenziale, possiamo dire, il sintomo di base è proprio all'ansia e all'angoscia. Però un'ansia e un'angoscia che non è psicogena, ma invece è endogena. Un endogeno, però, in questo caso, non inteso, visto che noi abbiamo scoperto molto l'endogeno leggendo Tellenbach, no? L'endogeno di Tellenbach aveva a che fare con una dimensione di tipo cosmica, mentre invece l'endogeno che intende López Iborre è un endogeno più carnale. Tant'è vero si rifà al discorso sul vitale che viene portato avanti da Ortega e Gasset, che poi si avvicina molto a quello stesso discorso che proponeva nell'ultimo periodo Calvi sulla carne, una dimensione intermedia tra il corpo e l'Aib, che in un certo senso ha quelle caratteristiche da cui si originano le cose, che poi è lo stesso discorso che propone Ortega e Gasset in merito alla vitalità. Secondo quest'autore, Ortega e Gasset, dalla vitalità nasce proprio la psiche. Quindi una dimensione su cui si fonda tutto il discorso su cui ruota l'angustia vitale. Quindi diciamo come fosse uno studio dei problemi psicopatologici legati all'umore che si lega molto alla corporeità, se capisco bene dal discorso che fai, o più si lega più alla corporeità rispetto al modello, se così lo possiamo chiamare, di Tellenbach, e che si concentra sull'ansia in particolare, se ho capito bene. Ci puoi dire qualcosa di più su questo, magari sull'ansia? È vero, se ci avete fatto caso, ho utilizzato ansia e angoscia come se fossero la stessa cosa. In effetti, per Lopez y Bohr, questi sono solo due, sono gli elementi, sono gli estremi di uno spettro di fenomeni che hanno tanto in comune. Forse quello che caratterizza l'ansia rispetto all'angoscia è che l'ansia è più sul polo attivo, più sul mentale, mentre invece l'angoscia è più sul polo passivo, più su quello fisico, più quello sul somma. In effetti, come stavo dicendo, è uno spettro di fenomeni in cui c'è la brama, l'irrequitudine, le vertigini. La parola vertigine rimanda sempre e solo a qualcosa di corporeo ed è uno di quei fenomeni che in qualche modo in cui si dà l'angoscia intesa da Lopez y Bohr. Come dicevo, l'ansia e l'angoscia rappresentano i poli di questo spettro di fenomeni e c'è anche un modo differente con cui si manifestano perché fondamentalmente quando il soggetto, il timopatico, nello specifico, presenta più una manifestazione di tipo ansiogena, il suo modo di reagire è più orientato alla fuga, mentre invece quando è più rivolto al polo passivo, a quello angoscioso, quindi a quello più colporeo, in qualche modo c'è più una sorta di blocco. Tant'è vero che lui introduce due termini che poi ho riportato nel testo come reazione di sobbalzo e reazione di sgomento. Qual è la risposta al sopraggiungere dell'ansia? La risposta al sopraggiungere dell'ansia è una reazione di sobbalzo, quindi più rivolta verso il movimento, mentre invece quella rivolta all'angoscia è più una reazione di sgomento, quindi di blocco. E questo ci dice tanto sull'aspetto che è più fisico rispetto ad altro. Molto interessante il discorso perché si avvicina molto, si sente l'influenza della fenomenologia dei sentimenti e delle emozioni di Scheller e io credo che sia molto utile per chi fa veramente clinica nei vari contesti nei quali noi psicologi, psicoterapeuti lo facciamo, rispetto ad altre categorizzazioni di psicopatologia classica che magari poi restano lì ma sono difficili da calare nella clinica quando hai l'incontro col paziente, invece quando si parla di queste cose c'è una raffinatezza del discorso che ti permette di inserirti dal punto di vista clinico con molta più efficacia e precisione come se tu avessi un bisturi a disposizione quando fai una differenziazione del tipo che stai facendo tu sai come lavorare con un corpo che poi è bloccato passivamente piuttosto che con un corpo che è bloccato nel senso attivo della reazione attiva di fuga quindi secondo me è molto utile molto utile anche dal punto di vista appunto del trattamento o meglio del modo con cui ci si deve porre di fronte a delle situazioni del genere però resta anche il fatto che nonostante ci siano reazioni diametricalmente opposte sembrerebbe che il problema alla base sia sempre lo stesso c'è questa dimensione vitale che è appunto l'angoscia l'angustia intesa nel senso di Lopez Ibor che in qualche modo contamina il soggetto rendendolo e creando proprio delle forme patologiche tanto è vero che questo è sì un libro sull'angoscia ma è un'angoscia inteso come malattia quindi non viene anche se lui lo riprende l'angoscia come aspetto positivo perché diciamoci la verità questo è un autore molto pignolo e nelle descrizioni diciamo raggiunge dei livelli molto sottili ma è molto precisi tant'è vero che il testo si poggia su due grandi pilastri uno è quello ontologico esistenziale quindi più filosofico e uno è quello ontico clinico della stratifica degli strati dell'anima in effetti spende molte pagine anche per parlare di quella che è l'angoscia esistenziale che non è l'angoscia della malattia ma è invece l'angoscia che in qualche modo è presente in tutti quanti loro parla anche appunto sul pilastro poggiandosi sul pilastro ontologico esistenziale ontico clinico fa una fenomenica di quelli che sono le manifestazioni dell'angoscia di come si dà ed è lì proprio che parla dell'angustia vitale e parla di questa dimensione vitale che in qualche modo è destrutturata è contaminata è ammalata possiamo dire e che produce quella che lui ha codificato come tipopati ansiosa ma nella timopati ansiosa entrano tante di quelle patologie del tempo e anche oggi ne potremo far rientrare tante anche il disturbo bipolare sotto certi punti di vista potrebbe rientrare all'interno della timopati ansiosa anche il disturbo depressivo visto che il nostro manuale attuale diagnostico li ha voluti separare ed anche il disturbo d'ansia generalizzata che cos'è questa timopatia ansiosa se puoi definircela con le parole di è il centro proprio diciamo lui utilizza mi piace utilizzare questa diciamo queste lui è come se ad operasse la macchina delle somiglianze individua tutte quelle patologie che sono per prossimità simili e cerca in qualche modo di mostrarci che appartengono alla stessa categoria innanzitutto diciamo che cos'è questa timopatia ansiosa è una è una patologia eh in cui l'ansia non è di origine psicogena ma è endogena è prodotto dal vitale quindi è improvvisa non è motivata da nessun altro fattore e quindi sopraggiunge improvvisamente altre caratteristiche molto importanti della timopatia ansiosa è il fatto che si presenta a fasi nel corso dell'evoluzione del soggetto e a volte la possiamo trovare sotto forma di vertigini altre volte la possiamo trovare sotto forma di gastriti altre volte la possiamo trovare come un disturbo d'ansia ed è qui appunto che Lopez in Bor ci invita a fare molto attenzione all'anamnesi quando abbiamo un paziente di fronte è importante riconoscere la storia clinica del paziente stesso perché anche molti fenomeni dell'età evolutiva che ne so il pavor nocturnum oppure quello viene visto come un fenomeno di tipo angosciante e nei racconti e nei moltissimi casi che presenta all'interno di questo testo ci mostra spesso come a volte soggetti che si presentano nella sua clinica hanno avuto già in passato altri fenomeni che secondo lui sono riconducibili a quello che lui ha codificato come tipo paziente ansioso interessante quindi qualcosa che è legato fondamentalmente ad un corpo che non è solamente il corpo vivo nel senso del corpo vissuto del live tu lo accennavi prima quando dicevi che lui parla come se parlasse del Körper in qualche modo perché lui parla di un corpo vitale o almeno di qualcosa a metà tra il corpo vivo e il Körper il corpo vitale in quanto qualcosa di biologicamente stratificato e strutturato dal quale emergono queste forme ansiose di base come se fosse se capisco bene il tuo discorso ha poco a che fare con la storia della persona e l'evoluzione del corpo vivo ma è più legato al corpo vitale alle emozioni vitali come le definisce Scheller sì è molto più legato a quell'aspetto un po' più come possiamo dire ma tra molte virgolette di tipo biologico perché diciamoci la verità il live tante volte si manifesta attraverso il Körper non è un caso che il Körper talvolta diventa la voce di queste sofferenze che il paziente ha mi vengono a me in mente le gastriti il colon irritabile che hanno queste ziologie incertano non si sa da cosa provengono e talvolta se andiamo ad indagare bene la storia di questi pazienti hanno presentato anche altri fenomeni differenti che ne so si sono avuti episodi in cui era presente una fobia anche le ossessioni rientrano secondo Lopez Ibor in questa dimensione timopatica le fobie addirittura le descrive come tentativi o meglio come forme di cristallizzazione dell'angoscia è quasi come una reazione che il soggetto ha per difendersi da questa incombente angoscia da cui non riesce a sfuggire interessante e quindi è come se si delineasse una possibilità di pensare ad una psicosomatica diversa che fa emergere i sintomi da quella strada di mezzo tra il corpo e il live prima accennavi forse alla calvi alla carne di calvi alla carne di calvi che è questa via di mezzo dove i sintomi possono emergere in quanto via di mezzo tra questi due che ci dice l'autore sulla psicosomatica per esempio cioè secondo lui qual è il meccanismo patogenetico di questi di questi casi oppure se se parla dell'ipocondria a me per esempio viene in mente vengono in mente tanti pazienti in studio che arrivano con sintomi ipocondrieci in un poco conto ma guarda il sottotitolo di questo libro è patologia generale psicosomatica e quindi è un tentativo proprio di diciamo dare un senso a questa medicina generale psicosomatica forse la cosa importante rispetto diciamo a quello che noi oggi conosciamo come psicosomatica dove c'è una sorta di primato della psiche invece il suo tentativo è di mettere proprio allo stesso livello a me quando l'ho incominciato a leggere mi è sembrato quasi che lui stesse alla ricerca mi verrebbe da dire della ghiandola pineale di cartesio del punto di congiunzione tra il psiche e soma che poi trova nel vitale ma lui non lo trova solo nel vitale inteso alla Ortega Gasset o anche i sentimenti vitali trattati da Max Scheller lui cerca proprio nel corpo quale può essere l'area che in qualche modo l'area del corpo che possa essere il full diciamo il nodo in cui emergono gli aspetti della psiche e del soma l'individuo di encefalo e pone massima attenzione a questo tipo di aspetto tu invece mi sottolineavi appunto l'elemento di tipo ipocondriaco l'ipocondria sicuramente viene ripresa dall'Opensibor ed è importante che in qualche modo riprenda questo tipo di tematica visto che noi per esempio nei nostri studi ci capita spesso soggetti che manifestano tutta questa manifestano l'ipocondria sembrerebbe che l'ipocondria almeno da quello che ne deduce l'Opensibor sia più sul versante psichico sia più diciamo un tentativo di mentalizzazione parlando appunto di quelli che possono essere gli eventuali disturbi di tipo fisici che presenta il soggetto interessante molto interessante il discorso che fai perché in effetti pensandoci l'ambito psicosomatico mi ha interessato per un periodo ho letto qualcosa e c'è molto la tendenza secondo me oggi nel nostro campo a psicologizzare molto questo tipo di fenomeni quasi come se la psicologia che ha sempre avuto problemi ad emanciparsi dalla medicina e dalla biologia e si è sentita assediata nel proprio status di scienza abbia trovato o stia trovando in qualche modo in questo tipo di sintomi una rivalza nel senso che la medicina non è in grado di spiegare la fibromialgia e allora è un sintomo sicuramente psicologico invece quello che stai dicendo tu riprendendo l'opizibor è in realtà a questo livello con questi tipo di sintomi con questo tipo di sintomi il Kerper e il Leib hanno uno stesso peso cioè una sorta di equilibrio alla pari che non si ritrova negli studi contemporanei sulla psicosomatica secondo me quindi ti ringrazio perché è uno spunto molto interessante guarda il risupposto di questo libro oltre a quello di essere di sistematizzare un sapere è anche quello in un certo senso di rompere la fammentazione che c'è anche nel mondo medico e anche nel mondo psicologico tant'è vero nel prologo di questo testo lui dice che questo libro è rivolto agli psichiatri agli psicologi a neurologi ai medici internisti e anche ai chirurghi anche ai chirurghi sembra strano però è proprio il tentativo che lui vuole portare avanti un modo differente di porsi di fronte alla malattia quindi tenendo in considerazione non solo la malattia ma anche l'ammalato le descrizioni che lui propone in anamnesi dei suoi pazienti che vede nella sua clinica sono molto dettagliati non solo da un punto di vista clinico prettamente medico ma anche da un punto di vista di storia personale del soggetto quindi è come se lui ci stesse invitando a non fare a meno di nessuna delle due componenti e di trattarle alla pare questa è la psicosomatica di Lopez non c'è il primato della psiche non c'è il pregato del soma forse il primato che c'è quello della dimensione vitale della vitalità che poi è vista per esempio lui parla molto della voglia tant'è vero che noi spesso in molti pazienti mi sentiamo dire non ho voglia di vivere soprattutto in quella dimensione depressiva certo e lui riprende il discorso sulla voglia riprendendolo da un amuno da un amuno che è un autore un filosofo spagnolo appunto ma non lo conosco in quel caso in quel caso la voglia è intesa come una delle determinanti della vitalità è come vista come una sorta di fiamma è quella che permette alla vita di essere e cosa succede in questi soggetti quello che si spegne è proprio questa fiamma quindi il problema il sulcro del problema è nella vitalità ok grazie Peppe veramente interessante ed è curioso come poi proprio tu che lavori al confine di queste di queste dimensioni nell'ambito oncologico ma in passato anche nell'emodialisi nel reparto di emodialisi ti sia trovato a tradurre non è un caso che tu ti sia trovato a tradurre questo autore secondo me perché in qualche modo ti porta a una visione equilibrata quando entri da psicologo in uno spazio medico e devi confrontarti poi con medici che magari difficilmente entrano in dialogo nella dimensione psicologica e viceversa è vero o mi sbaglio diciamo non è un caso che noi facciamo parte del gruppo di intercomunicazioni funzionali tra le professioni giusto esatto il fatto importante è proprio quello di uscire a trovare un modo di comunicare comune perché io per esempio mi sono dovuto un po' uniformare quando ho lavorato in dialisi al mondo della nefrologia nell'oncologia è la stessa cosa ora sto facendo anche l'esperienza in ematologia quindi diciamo il mondo medico mi circonda non riesco a liberarmene ma non mi dispiace anche perché ci sono tutti questi tipi di confluenze tornando alle gastriti noi possiamo avere delle problematiche ematologiche che ne sono un'anemia dovuta ad un'ulcera quindi a un problema di tipo gastroenterologico che ovviamente nella medicina che si fa l'anemia si cura se ha bisogno di una trasfusione si fa la trasfusione se ha bisogno del ferro si fa il ferro la gastrite o meglio l'ulcera si cura con i farmaci ad hoc per quel tipo di patologia però molto spesso che succede che nessuno va a vedere effettivamente se questo può essere correlato invece ad un altro tipo di disturbo come quello della sfera dell'umore della sfera del vitale certo in effetti io mi ritrovo spesso forse il mio modo diciamo continuo ad essere anche psicologo quindi introduco anche questo aspetto della soggettività e vado ad indagare questi tipi di dimensioni ed è impressionante secondo me come la fenomenologia ti dia in questo campo un equilibrio una possibilità veramente trasversale mentre molti modelli sono squilibrati da un lato o dall'altro la fenomenologia veramente ha una teoria con Max Scheller ma oggi ci stai facendo scoprire anche con Lopez Ibor con Tellenbach per esempio che veramente sta con tutti e due i piedi in due scarpe quindi riesce a tenersi radicato e a poter dialogare con tutti forse è questo poi che ti dà la forza a te personalmente di poter stare tra medici da psicologo senza senza sentirti schiacciato e e anche in qualche modo a volte svalutato come la psicologia per tanto tempo si è sentita senti Peppe ti faccio una domanda che ci manda Luca che ci sta seguendo su Streamyard non posso mandarla in diretta perché con questa cosa che abbiamo avuto il problema tecnico all'inizio non la posso girare ma te la leggo Luca ci fa una domanda molto interessante chiedo se questa declinazione dell'angustia vitale riguarda solo l'ettimopatia omorali o può essere un elemento trasversale ai vari mondi psicopatologici rispondo subito sì in effetti è vero che è il sintomo base dell'ettimopatia ansiosa ma l'angoscia non è solo dell'ettimopatia ansiosa tant'è vero nello studio che pone Lopez Ibor sull'angoscia distingue fondamentalmente possiamo dire un'angoscia esistenziale l'angustia vitale e anche un'angoscia reattiva quindi il tema dell'angoscia è presente dal mondo del normopatico fino al mondo psicopatologico lo attraversa appieno molto probabilmente fenomeni angosciosi lo troviamo anche nei mondi psicopatologici della schizofrenia in quei fenomeni come la vastina ovviamente questo tipo di lavoro fatto da Lopez Ibor si concentra prettamente sulla dimensione morale dei disturbi che pertengono alla sfera del vitale però il discorso sull'angoscia apre a tanti mondi ritorno su questi tre elementi l'angoscia esistenziale l'angoscia vitale l'angoscia vitale e l'angoscia reattiva proprio perché fondamentalmente declina tre modi di manifestarsi dell'angoscia la prima l'angoscia esistenziale si dà nell'essere angosciati l'angustia vitale si dà nello stare angosciati noi spesso utilizziamo il verbo stare e il verbo essere in maniera quasi diciamo da sinonimi però hanno una differenza tra di loro rimanda più all'immediatezza al momento lo stare rispetto all'essere che appare più costituzionale mentre invece l'angoscia reattiva si mostra più diciamo nel porse angosciati lui fa scrive bellissime pagine per distinguere quelle che sono da per esempio trattate anche da Kurt Schneider come psicopatie depressive depressive quelle sono le psicopatie depressive paradossalmente sono animate dall'essere angosciati perché è un problema di tipo costituzionale mentre invece le depressioni endogene sono animate dallo stare angosciati quindi dall'angustia vitale mentre invece diciamo le forme di depressione reattiva sono si sono caratterizzate dal porse angosciati sono dei fenomeni che in qualche modo caratterizzano l'angoscia interessante interessantissimo io ti chiederei prima poi di lasciarci perché abbiamo gli ultimi minuti per il nostro format da mezz'ora però te la voglio fare questa domanda perché mi incuriosisce e secondo me è utile ecco parto dall'esperienza fatta in una masterclass dove c'era uno psicopatologo che presentava alcuni aspetti della fenomenologia e parlava agli psichiatri del livello del vitale in quel caso parlava della depressione vitale tu oggi ci stai parlando dell'angoscia vitale gli psichiatri proprio non sapevano di cosa stesse parlando cioè come se l'idea fosse la corrispondenza effettiva e precisa tra vitale e biologico come se fossero identicamente la stessa cosa invece se tu leggi questi autori fenomenologi che parlano della sfera del vitale si tratta di un'altra cosa ci puoi dire che cos'è cioè in poche parole so che è difficile ti sto facendo un domandone ma cos'è la sfera vitale dalla quale questi sentimenti prendono fuori prendono prendono forma se non è biologica ma forse non è assolutamente cioè diciamo non possiamo dire in maniera assoluta che non sia biologico così come non possiamo dire in maniera assoluta che sia psicologico il vitale almeno così come lo tratta il nostro Lopez Iborra si dà proprio come punto di congiunzione non si può escludere la sua dimensione di tipo biologica e non si può escludere la sua dimensione di tipo psicologico o meglio il vitale rappresenta perciò prima ho citato Calvico la carne proprio come quella dimensione che ha sia le caratteristiche del live sia le caratteristiche del corpo quindi è impossibile escluderne una delle due ovviamente la parola vitale può essere letta in diversi declinata in maniera differente dipende dal punto di vista in cui uno si può però quello appunto portato avanti da Ortega e Gasset riproposto è quella è la carne non è afro ma credo che la si ritrova allo stesso modo anche in Scheller e quando lui parla di sentimenti sensoriali sentimenti vitali e sentimenti psichici anche lui gli dà una collocazione di mezzo anzi poi in Scheller la cosa bella è che c'è questa transazione tra i sentimenti si passa dal sentimento vitale al sentimento sensoriale a quello dell'io che poi è la caratteristica con cui Lopez Ibor cerca di descrivere il perché uno a volte manifesta la sua angustia vitale attraverso una fobia e a volte attraverso un altro tipo di manifestazione come potrebbe essere una vertigine come un tremore come un'algia le cose la parli pagine entusiasmanti sono anche quelle che parlano del dolore è caratteristico l'algia del lato sinistro del corpo nei timopatici il lato pratico lo chiamano Lopez Ibor quindi il dolore che è una dimensione prettamente biologica che invece viene evocata quante paralisi si manifestano a volte dove non c'è un'eziologia certa quanti del dolore alla scapola sinistra si presentano che sicuramente sono state in qualche modo prodotte dalle tensioni della postura che noi assumiamo però c'è il convolgimento di questo vitale che in qualche modo ha spinto nel determinare questa manifestazione fenomenica quindi come fosse una dimensione a metà praticamente tra il biologico e lo psichico che è sia l'uno che l'altro praticamente una categoria completamente fuori dalla psichiatria mainstream dalla psichiatria di istituzionista Peppe ti devo fare l'ultima domanda perché c'è Matteo Maria Bonani che ci segue sempre ed è molto attivo sui nostri canali e ci ha fatto una domanda non te la posso non mandare ok quindi te la devo per forza girare eccola qui intanto grazie interessantissimo volevo chiedere se nel testo viene trattata anche la modalità di spegnimento della vitalità cioè in quali atmosfere o situazioni il soggetto si spegne ci manda anche una continuazione che è questa penso alle circostanze nelle quali la vitalità e l'eccitazione del bambino disturba perturba lo spazio relazionale con l'adulto su quest'ultimo punto me lo devo rileggere mentre invece quella la parte iniziale del testo mi verrebbe da dire nelle situazioni limite questo lì appunto avviene un qualcosa che sembrerebbe ma sembrerebbe diciamo evocare lo spegnimento della vitalità del soggetto le situazioni limite che sono anche quelle di tipo angosciato oltre a situazioni limite che sono prodotte che ne sono dai naufragi per quanto riguarda invece la seconda parte della domanda lui ci chiede praticamente del bambino quando la vitalità del bambino disturba o perturba lo spazio relazionale con l'adulto cioè nel senso credo che lui voglia dire quando è quasi imposta lo spegnimento della vitalità al bambino come fosse no? Penso che non ci riusciremo mai a spegnere del tutto se non adoperiamo qualche azione di tipo farmacologico tant'è vero che i bambini anche diciamo in un programma di tipo psicoeducativo pedagogico fatto per bene si hanno tutta questa grande vitalità così come penso che intende il nostro amico non si riesce a spegnere così facilmente sicuramente sono d'accordo va bene Peppe è stato un incontro veramente molto interessante io ti ringrazio perché ci hai portato al centro dell'attenzione un discorso e un autore poco conosciuto che spero presto potrai portare in Italia a proposito hai qualche informazione su quando potrai pubblicare la traduzione in italiano non lo so di preciso però posso dirti che Lopez Iborra ha iniziato a scrivere nel 43 e l'ha pubblicato nel 50 io l'ho incominciato a tradurre nel 2016 mi auguro per la metà 2023 di poterlo avere diciamo tra le mani in maniera in italiano perfetto ok allora lo aspettiamo per quest'anno l'ultima cosa che mi rincuora e mi fa felice è che il discorso che hai fatto tu oggi sulla sfera del vitale ci ricollega proprio come un ponte alla settimana prossima quando venerdì avremo Maria Cecilia Esposito che ci parlerà di Scheler perché sicuramente entreremo in questo argomento parleremo probabilmente della schizofrenia e della percezione valoriale nella schizofrenia ma sicuramente ci collegheremo anche a questo a questo concetto che tu oggi ci hai introdotto insomma quindi grazie anche per questo ma credo che la filosofia degli incontri che stai cercando di generare è proprio quella riuscire a mantenere collegati i discorsi anche quello di stamattina era molto interessante quindi che ovviamente per esempio ci sono mi prendo quest'altro minuto perché ci sono anche alcune pagine che parla della dimensione dell'età evolutiva in cui si incominciano a manifestare i problemi attinenti alla vitalità forse sarebbe interessante riuscire appunto a parlare con gli autori che in qualche modo stanno trattando l'età evolutiva di queste pagine dedicate di Lopez Ibor dalle enuresi del bambino al paur nocturnum sono tutte dimensioni che in qualche modo ci danno un cenno che il vitale traballa ma noi la lanciamo lì lanciamo la pietra la mano sta qui quando vogliono venire a parlare sanno dove trovarti e invito tutti a leggere anche i tuoi articoli sul blog note sul mondo oncologico che è solo l'ultimo ma anche una sul naufragio è scritto il naufragio in psicopatologia che prima citavi quindi andate a leggere gli articoli di Giuseppe e continuate a seguirci grazie buonasera da tutti grazie a tutti quanti voi grazie a tutti grazie a tutti